Lei da assessore regionale alle infrastrutture ha sempre seguito da vicino la vicenda dell'Ai45 e anche della ex tiberina Trebis. Lo farà anche da consigliere del Partito Democratico? Perché lei sa c'è stata una presa di posizione dell'asso industriale proprio di questi giorni, insomma lì è ancora tutto fermo. Certo che lo farò perché comunque sono un consigliere della Toscana ma un consigliere espressione di un territorio. E quindi le vicende che riguardano questo territorio saranno sicuramente a me care e saranno da me seguite, tanto più quelle che conosco perché mi hanno visto protagonista anche dal punto di vista operativo sino a qualche mese fa. Purtroppo la Trebis non potendo usufruire di leggi speciali che riducono i tempi e accelerano le procedure, ha dovuto seguire tutto l'ite per l'acquisizione dei vari pareri. E quindi i lavori non sono ancora iniziati, contrariamente a quanto l'ANAS invece ci aveva detto e aveva in animo di fare. Rimane comunque il fatto importante che l'intervento sarà fatto, credo che a questo punto i pareri siano, spero, arrivati tutti e siano perfezionati e possano essere iniziati perché oramai c'è la triste vicenda del sequestro del viadotto del Puleto e dell'interruzione della 45 ha dimostrato che quella è l'unica alternativa e in quella fase siamo riusciti a far sì che il Ministero accettasse l'idea non solo di intervenire per riaprire quella strada a carico dell'ANAS ma anche di farla ritornare nel patrimonio nazionale dell'ANAS stesso.